ma salve ragazzi benvenuti su questo nuovissimo video dato che l'ultimo video vi è piaciuto davvero tanto vedendo comunque dei commenti dei mi piace anche dalle visualizzazioni ragazzi oggi vi riporto un altro video simile in questo duo ragazzi che andate a vedere in questo video io ho giocato con un ragazzo sempre credo inglese adesso non ricordo comunque sia abbiamo parlato in inglese ma ci saranno i sottotitoli altra cosa ragazzi è che questo ragazzo è rimasto scioccato dal fatto che io abbia fatto 20 bombe da sola lui è stato molto contento del fatto che abbia fatto appunto 20 bombe che l'abbia portata la win facendomi i complimenti poi alla fine quindi ragazzi si guardatevi questo bellissimo video che è davvero davvero bello e fatemi sapere cosa ne mettete qui sotto nei commenti e un'altra cosa ragazzi che voglio dire è di seguirmi su twitch io su twitch ragazzi faccio live streaming ogni giorno trovate il link della live qui sotto in descrizione ma sotto ogni mio video e mi trovate live ogni giorno su fortnite quindi ragazzi mi raccomando buona visione lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanellina perché siamo quasi ai 200.000 iscritti ragazzi e 200.000 iscritti ci sarà uno speciale bellissimo che aspettavate da molto molto tempo e finalmente ragazzi ve lo porterò buona visione ragazzi a un po' di pizze ok io vabbè con controllo oh con controllo vabbè vabbè avut crolli come 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 it's white oh good pro i'm gonna reload my gun oh my god for the mountain i got another kill oh they actually revived someone i've banned this for you right here oh shit 84 good oh they're launching on us i think oh two seconds two seconds yeah yeah oh they're firing okay it's good it's good yeah we should go there's a shotgun here if you want okay he's on the roof yeah got it got him gg gg i have shield for you oh there's people in front of me one is literally one hp i got him got him gg 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 bec 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 be careful i got him good one got me oh he's right okay now he's dead he's all right oh wait oh shit wait wait give me a snipe okay i see him just hide i'm gonna i'm gonna fight him okay 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 actually i can rest guys stay here i'm gonna hit you what the fuck is this guy doing like what i don't know okay let's go oh still i give him snipe i'm gonna smash this guy actually fuck it okay i got him there is a chuck chuck for you right there 20 20 20 let's go yeah they are downstairs i got one okay oh okay 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 i got him i got him easy clubboy let's go okay i'm gonna launch you i got one i got one you have no health nice nice okay okay let's go man easy game i have 17 actually oh we are almost there here 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 oh really okay let's go i'm gonna launch you still see him yeah i see him i'm gonna smash this guy he's noob oh my god oh my god this guy no way he's up dude what the fuck was he doing i don't know oh i see guys they are launching in here yeah let's go and take them oh they are they are cutting i'm gonna go okay i need three kills which is the enemies remaining go over thank you i got one give me a second i'm coming i'm coming okay okay i'm gonna kill him wait 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 he's one hit he's one hit i'm gonna kill him okay oh 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 shit almost be careful yeah i'm fine you need two kills yeah i need two kills oh you can kill him just kill him just kill him just kill him it's fine that's good bro i need one kill so it's the last guy okay i have 19 i fucked up there oh my god my aim it's okay you carry me oh but you arrest me so huh you arrest me too too many yeah true yeah true i think you see your my stream my stream yeah yeah i think it's a stream is better well i'm sorry buddy i'm gonna have to kill you though let's go dude ah easy game i was the first game of my day dj easy you can add me yeah sure do it yeah sure do it thank you bro you